I would grab my board, which I just would hold like this. Sembra una comune lavagna scolastica, ma in realtà quella che questa insegnante della Worcester Preparatory School di Berlin in Maryland sta mostrando è un vero e proprio scudo antiproiettile, dietro il quale ci si può riparare in caso di necessità. È una invenzione della Hardwire, una piccola azienda della zona che dal 2013, dopo il massacro nella scuola di Newtown nel Connecticut, costato la vita a 26 persone nel 2012, è stata adottata da diverse scuole di tutto il paese. Queste tavolette antiproiettile, realizzate in fibra di polietilene, misurano 50x45 centimetri e sono state progettate proprio per difendersi da eventuali aggressioni e sparatorie. Il fatto che esistano cose del genere, spiega questa mamma, è un grande sollievo per noi genitori. Penso sia un buon sistema di prevenzione, aggiunge questa donna, e in ogni caso è meglio che niente. George Tunis, titolare della Hardwire Leader nel settore fornitore di diverse forze di polizia e dello stesso esercito americano, ha pensato di realizzare questo sistema di difesa per proteggere studenti e insegnanti e come alternativa all'ipotesi di armare i docenti. Di recente, l'azienda ha avviato anche la produzione di tavolette più piccole, come cover blindate per tablet o pc, che inserite in uno zaino diventano praticamente un giubbotto antiproiettile. Ognuna pesa circa un chilo e mezzo e costa solo 65 dollari, ma può salvare la vita di chi la indossa.